allo 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 italiano voi fate sapere che italiano guarda sapere che sono italiani io bro sei italiano allo allo do you hear me sei italiano come stai grande mi sembra che sei un po triste cosa è successo no 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 andiamo che accident andiamo appuntito pantano foto sono uguale a shooter ok è uno che gioca fortnite ti sento un po basso puoi alzare il volume e porca puttana non ti sentivo da dove ci chiami no sei chi è sicuro che non so di chi stai parlando scusami veramente codice xiderone il nome a quello no è mio cugino che sinceramente segue gli streamer cose del genere mi ha fatto giocare un pochettino la voce cioè prima di entrare in partita se vorranno un video di lui ed è uno si stava giocando con è bravo un altro si vado a vedere anche un suo video tu sei bravo invece bene non troppo c'è abbastanza ok e quanti anni hai 12 11 cioè 12 io ne ho 14 andiamo ma la stessa voce c'è uguale non so cosa non so cosa non so adesso voglio vedere no c'è gente no aspetta che arrivo subito non morire per favore io non sono molto forte dove sono quelli che hai visto i posti qua ok andiamo ad ammazzarli faceva un punto sono anche io grazie sei di sicuro sono di sicuro ma la stessa voce ho capito ma non ne io non so che poi che tu hai la voce somigliante a un cantante quelli dei ma magari pensavo che avesse anche non è che magari nel tempo libero canti le loro canzoni no no ok da quanto tempo giochi a fortnite bene no ci sono sei e mezzo ok buono 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 come seguono ci gente arrivo non rimaniamo bloccati qua andiamo 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 sono di sicuro sono di sicuro lui va bene quando poi sei a posto me lo dici non mi devi dire chi è questo qua è non so di chi stai parlando veramente scusi ok perché non ho tanti amici allora già con queste cose c'è qualcuno che mi sta sparando da sopra è il 90 ok sono una terra grazie una mazza una vita un grutto è a 30 22 blu cazzo fitti materiali però 22 bianco te lo puoi fare te lo puoi fare te lo puoi fare devi fartelo mi raccomando vai 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 mi lasci grande aspetta che aspetta che chiedo al mio cugino alè chi è che siuderone no vabbè ok 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 mi ha detto che è uno che fa i video su youtube ho il fi 90 si grazie oh è la madonna ho fatto un po' bello oh bellissimo dopo lo vado a vedere mi dicono che ho la voce uguale magari posso fargli il doppiatore posso fargli no sei sicuro lui sicuro stavo appena guardando un video che hai giocato con uno francese che tipo cantava bella ciao tipo aspetta aspetta ale ma questo qua gioca con quello bella ciao ha detto che l'ha caricato prima l'ha caricato eh è già visto ale va che ho la voce uguale mi dicono ah vabbè io mi vedo uscire ok arrivi cioè a farmi incognito è divertente questo qua si io lo guardo qualche volta molte volte perché poi ci sono i che hanno i posi cosa ci sono funny moment i funny moment ah le cose il funny moment mi dice i momenti quando fa più ridere mi dice si ok oh dopo me lo fai vedere ma adesso dopo lo vado a vedere anch'io qua c'è ancora una un forziere da aprire ok ma lo spera bene se vuoi ma guarda mi sto prendendo la la cascata la cosa che ti piace di più di questo fortnite boh cioè in questa sedia non mi piace troppo cioè poi la battaglia l'ho ciò fatto solo per i v-bugs ma non mi piacevano molto gli schemi guarda io ho la terza partita che faccio a questo gioco e non sono solo arrivavo giocavo da battlefield li conosci? si si ok però è difficile costruire e fare le cose mi mancano i colpi del fucile a pompa ne hai? si tieni grazie andiamo ho appena acceso perché tipo lo soppresto skin gli vediamo un bocco vediamo subito questa skin bella sembra una persona di natale io non le conosco non lo so ma c'è in mano la falce della morte che cos'è questa cosa? questo piccone che hai? no è uno mi piace no è bellissimo mi piace anche a me mi piace andiamo e si può comprare? ok andiamo no sono certissimo ma che cosa? che stai facendo un video oh un video o anche no oh io non so di cosa stai parlando ancora questa cosa oh Ale ma questo mi dice che sono uguale Ale dice che ho la stessa voce dice no sei di sicuro ok Ale sono io andiamo hai fatto 6500 punti in arena non so cosa sia cos'è? arena arena ma non so cos'è l'arena competitive che rifare punti e è la terza partita che faccio a questo gioco io non so nulla sono semplicemente bravo a giocare a battlefield mio cugino mi ha chiesto qual è il tuo streamer preferito allora cioè ne ho tanti preferiti cioè nel senso mi piacciono tanti non è che ne ho uno preferito diciamo i più i tre migliori ah tre migliori allora stepney shooter e vediamo non lo so ah vivo ah non conosco so che c'è uno che è grande però che gioca ai videogiochi eh si chi è? shooter nooo uno che ha i cappelli corti con la barbetta mi sembra power eh io non li conosco ne avevo visto uno che mi sa che fa dei video di clash royale che fa che ha tantissimi eh proprio milioni di iscritti mi sembra però su youtube eh eh non mi ricordo come si chiama mi sembra che ci abbia un numero alla fine mi sembra tu sai chi è? deve essere famosissimo perché oh c'è un lama c'è un lama che cos'è? oh eh ho bisogno di iscritti beh c'è ha tipo tre milioni mi sembra eeeh tre milioni stepney ne ha quattro milioni nooo mi sembra che inizia per la c mi sembra c ma non so magari non è famoso eh stepney l'avevo visto qualche giorno fa che che è tipo tipo il nome tipo il nome di una persona in carne no? no forse forse mi ricordo male forse mi ricordo male boh non lo so non lo so non lo so so che anche lui giocava a Fortnite sicuramente ha tipo il pizzetto no? chi c'è game? eh non mi ricordo non questo qua non lo conosco chi è? no è uno che anche Fortnite è forte o è scarso? è facile a classerogallo è abbastanza forte è abbastanza forte ho capito pensi che uno sia sia uno dei più forti in Italia? beh ci sono molte ce ne sono di più forti ce ne sono di più forti chiudere è forte? beh si ah buono è più forte di questo qua? boh secondo me è tipo uguale ho capito poi sto record di killer mi sembra con Efesto 16 ok ah non so chi sia aspetta che chiedo Ale quante chi l'ha fatto Xyuder? 16 mi dice 16 16 e il record dell'altro te lo ricordi? boh però hai tutti i punti di 20 oh cavolo allora più forte ma si è bravo ma cavolo cavolo bene 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 chi è invece l'altro che hai chiamato? Efè? chi è? Efesto Efesto e chi è? è uno bravissimo è fortissimo si scusami e Xyuder ci gioca insieme? si allora è forte anche Xyuder se ci gioca insieme uno fortissimo scusami ma sono amici credo di si penso anche io se giocano insieme no? vabbè ho capito ho capito ho capito e tu hai il canale invece? no no non hai il canale ho capito siamo rimasti in 11 hai visto? eh si che forte buono 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 comunque mi dicono che Ale mi dice che ho la voce uguale a questo qua no è uguale oddio c'è un mio amico oddio c'è un tuo amico online? ok no dopo puoi giocare con me e il mio amico ti prego eh caro ma dopo devo uscire mi ha fatto fare una partita ma devo andare a mangiare tu hai già pranzato? io si cioè perché sono tornato da scuola e beh ovviamente no io invece sono tornato dal lavoro e e adesso mangio io faccio la scuola alla sera ok però meglio andare in scuola meglio andare io ti seguo io non sono capace ci hanno visto ci sparano? sì ok c'è un colpo però non mi hai aiutato perfetto ho capito io giocavo a Clash Royale tu conosci? sì ci giocavo anch'io non ci giochi più? ma adesso c'è ce l'ho ancora sul tablet ma non ci gioco mai chiaro chiaro mi sembra che c'è anche una ragazza che gioca a Fortnite in Italia Croato Mist? eh bravo 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 com'è? beh è forte forte è forte ha giocato con Xiuter? boh credo non lo so però credo di sì ok dopo mi informo andiamo andiamo oh eccoli eccoli ok ti seguo ti seguo la madonna hanno il cecchino hanno il cecchino io sono bravo è uno però sembra uno sembra uno allora io ti seguo facciamoli male andiamo magari muoio e se lo dico oh cimera cimera oh scusa no 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 figurati oh mio dio oh ma c'è un sacco di gente che mi sta sparando qua e ho notato non morire eh sto arrivando ci faranno anche della montagna ci faranno anche della montagna ok 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 non facciamoci prendere dal panico tu dove sei sei sopra ah è sì un po' sopra che vengo lì hai delle cure per me oh ne ho due qua da me mi hanno ammazzato ah ma questo è di tu eri perché stai scappando oh sono morito sto morendo 5 bravo bravo no cavolo fa niente fa niente vinci tu per me oh bravo grazie per essere stato qua bello hai capito che sono xxuder sì madonna ciao stai bene ciao ciao